benvenuti nella mia cucina oggi festeggio con voi anzi colgo dal frigo perché ho paura poi che mi esploda la mettiamo qua festeggio con voi con una doppia ricetta facciamo un dolce un salato che magari forse festeggerò stasera con la mia famiglia ma la particolarità è che faremo la cottura insieme sia del dolce sia del salato ho scelto delle ricette parecchio profumate per dimostrarvi che anche se sono cotte insieme con odori totalmente diversi ognuno mantiene il suo odore e mi dispiace non potervi far assaggiare e annusare quello che stiamo per preparare parto con la preparazione perché per fare due ricette insomma non è poco mi sono avvantaggiata con alcune cose inizio prima con la preparazione del dolce allora nella ciotola verso le tre uova intere un pizzico di sale e 180 grammi di zucchero io utilizzo lo zucchero integrale di barbabietola ma va bene anche lo zucchero bianco se volete fate a vostra scelta non siete condizionati vado a montare e adesso questo va bene anche lo zucchero bianco va rumore altrimenti vi parlerei ma un posto vabbè fatto così mi avvicino io perché così possiamo andare avanti in un'altra ottima mezzo chilo di zucca che ho grattugiato e coppio ricotta faccio se no non si capisce niente dunque abbiamo messo mezzo chilo di zucca che ho grattugiato passato in padella aromatizzata con un pochino di noce moscata se vi piace ovviamente aglio e se volete un po' di peperoncino poi qui ho 400 grammi di funghi porcini perché hanno un odore molto forte se li trovate freschi meglio altrimenti i congelati vanno benissimo anche questi li ho precedentemente cotti in padella ovviamente con il magic cooker e un pochino di aglio un pochino di sale senza andare a condire troppo perché il fungo porcino è già un sapore di per sé bello forte poi io aggiungo un pochino di cardamomo lo preferisco in olio essenziale poi parleremo il perché del pepe nero altrimenti l'olio il pepe nero grattugiato fresco solo una goccia di alloro preferisco perché vado a aiutarmi per la digestione per la digestione diciamo e rosmarino sempre solo una goccia perché gli oli essenziali sono molto più forti sono da 50 fino a 70 volte più potenti della pianta stessa vado a mescolare il tutto senza aggiungere uova senza aggiungere niente altro nel frattempo che io ho messo lì vado ad aggiungere qua partiamo da la farina la mia farina è una farina integrale di semola che non ho mai utilizzato finora nei dolci ma sta benissimo poi ho 70 grammi di cacao setacciato anche la farina è stata setacciata il lievito per i dolci una bustina poi un bicchierino 50 ml di rum se volete qui ho 120 ml di olio di semi in quale aggiungo una miscela metabolica 3, 4, 5 e cannella vai ok siccome gli oli sono oli dunque sono oli posolubili li ho messo nel mio olio di semi e lo aggiungo tutto quanto qui ok lo faccio andare mentre mescolo quest'altro piano piano se non me esce tutto allora allora i punghi è importante che li tritate a coltello abbastanza piccoli non devono essere proprio frullati cioè è bello se si sente il sapore che lo trovate bello forte è proprio intenso proprio il pungo boccino io l'ho già fatta l'ho provato in casa con la mia famiglia è piaciuto tantissimo zucca a destra di stagione lo punghi i punghi anche specialmente dopo le piogge ecco la settimana scorsa per esempio ho raccolto anche io i punghi porcini ok poi questo lo lasciamo così non mi fa rumore il bicchiere del frullatore a dimersione in quale ho inserito il sac a poche con la parte centrale dentro in questa maniera mi rimane fermo sicuramente sapete anche voi questo bel trucchetto ma magari c'è qualcuno che ancora non l'ha provato dunque io in questa maniera mi tengo bene il sac a poche che non ho bisogno di qualcun altro diciamo magari che mi aiuta e inserisco qui il mio ripieno che poi dovrò fare una seconda trash ok utilizzo così lo alzo e aggiungo il resto del ripieno è calcolato anche la quantità del ripieno è tutto calcolato sapete le mie ricette non sono mai a occhio insomma sono tutte calibrate diciamo ecco con tutti i dettagli perfetti in tal modo per darvi la possibilità di replicare le ricette avendo la sicurezza di un ottimo risultato ok poi ho preparato qui la mia teglia del kit forno sul fondo ho messo circa mezzo bicchiere di passata di pomodoro e ho messo in piedi la pasta la pasta che ho scelto è la calamarata fresca non quella secca perché fresca ma magari vi dico dopo così inizio a riempire dunque con il mio sac à poche che lo devo chiudere sopra altrimenti mi esce di sopra vado a riempire i miei anelini è molto molto facile come sempre sapete le mie ricette sono sempre facili è anche veloce da fare ci vuole il tempo un pochino che vi dedicate per sistemare in piedi la pasta ma se avete i fili in casa ecco si divertiranno a sistemare questi anellini perché ho scelto la calamarata fresca non tanto per il tempo di cottura quanto anche per quello ma anche perché essendo fresca e morbida essendo morbida se qualche anelletto non è abbastanza aperto dunque io non lo posso riempire essendo fresco io lo posso modellare se invece prendete la calamarata quella lunga conservazione che sono duri insomma gli anelli non riuscite a sistemarli perché l'ho scelta un altro motivo per quale ho scelto la pasta fresca per i tempi di cottura la pasta secca messa a ripieno così direttamente nel kit forno intendo non si riesce a cuocere bene cioè avrebbe bisogno di tanto tempo perché bisogna cuocere proprio la pasta i tempi non sono gli stessi di quando cucinate direttamente nella pentola nel kit forno i tempi sono molto diversi dunque la la pasta fresca sta benissimo nonostante c'è scritto sulla busta 5-6 minuti di cottura all'incirca viene benissimo così cioè l'ho già provata dunque vi dico con certezza che il risultato è perfetto cioè nonostante ho fatto tutto in diretta quasi vedete che è molto veloce perché grazie al sac a poche riempio velocemente la mia pasta è come se fossero diciamo dei mezzi cannelloni guardateli così messi in piedi però tagliati in due o in tre insomma ok è molto c'è un bel aspetto il sapore non vi dico che è una cosa stupenda ecco fatto poi come vi dicevo è tutto calcolato poi vado ad aggiungere 150 ml di acqua perché ho bisogno di cuocere la pasta e passata di pomodoro era meglio ecco lo metto nel bicchiere prendo un cucchiaio così do il tocco di colore alla pasta ci vuole anche avere un bel aspetto non è che sia solo buona deve avere anche un bel aspetto sono proprio felice oggi è la prima volta che capita la diretta proprio nel giorno del mio compleanno ma è ancora più bello festeggiare con tutti voi no? ok sopra aggiungo del pecorino parliamo poi di tutti gli ingredienti e varie scelte io ho scelto il pecorino perché con i funghi e con la zucca secondo me è meglio poi se volete se preferite il grano o il parmigiano ben venga ok per il sapore siamo al top adesso ok dunque questo è uno lo metto da parte poi qui dove è fatto l'impasto per il dolce continuo con sono due pere due pere e mezzo tagliate a cubettini piccoli la pera che ho utilizzato è Williams e vi raccomando una pera molto ben cotta è importante che sia molto cotta dal mio punto di vista poi ognuno ha le sue preferenze aggiungo delle gocce di cioccolato perché oggi è il mio compleanno dunque viva la la bontà la golosità e scelgo di aggiungere anche granella di mandorle per dare un tocco di crocantezza alla mia torta perché il palato vuole anche un po' di crocantezza mescolo a mano questa volta il tutto siamo quasi pronti per la cottura quanto sono semplici e veloci le ricette vero? ok questa è una torta pera e cioccolato senza burro abbiamo utilizzato l'olio di semi lo che ci viene è una cosa del genere con l'impasto insomma vedete abbastanza compatto poi è qua io ho scelto questo stampo perché è molto carino che l'ho imburrato molto bene cioè siate generosi con il burro in questo caso sul fondo ho messo poco più di mezza pera tagliata a fettine sottili e sottili essendo così sottili riescano a prendere la forma del mio stampo ok tutti questi disegni che ha sul fondo non è infarinata aggiungo verso il mio impasto perché ovviamente il dolce cotto alla fine va girato sotto sopra e avrete questo bel disegno delle fettine di pera sopra che è già di per sé una decorazione veramente è molto chic fa tanto effetto fa tanto effetto ho già provata di solito questa torta per il cioccolato viene fatta a tonda e così come se la metti così rimane cioè in piedi non va girata la decorazione con le pere si fa sopra fatta a stampo anche se utilizzate uno stampo dritto ecco non è per forza questo zigrinato così anche se è dritto ma mettendo le pere sul fondo e poi girando il dolce l'aspetto finale è molto più bello che cotta in maniera tradizionale tonda ok dunque non ho bisogno di decorare perché questo sarà il fondo cioè la vado a rigirare dopo non si spreca nulla mi devo sciacquare poi vi rispondo vedete allora questo non mi serve più prendo il mio kit forno con la cupola san pietro ovviamente perché altrimenti non potrei lo metto non potrei fare tutto quanto mettiamo così poi come primo strato cioè sopra il mio omino il mio distanziatore lo utilizzo perché faccio proprio l'effetto forno lo metto sul fondo così la mia teglia rimane sospesa nella camera d'aria esattamente come succede con il forno tradizionale che ha la griglia dentro sopra di quale noi mettiamo la nostra teglia ok lo metto così poi utilizzo senza piedini cioè pochi di piedini vedete sono così perché in questa maniera io riesco a poggiare sopra il mio stampo del dolce questa la devo ingrassare così e metto dove ho messo qua il mio stampo vedete che sono già uscita dalla dall'altezza del kit forno ecco quanto sono uscita siccome la mia cupola è molto alta mi permette di avere tanta altezza in questo caso per la cottura utilizzo il formello grande diametro 10 cm metto il mio timer a 15 minuti fiamma alta perché utilizzo adesso 15 minuti fiamma alta ho tante cose dentro dal punto di vista del volume del materiale da riscaldare ok è una grande quantità perché sono due ricette tutte e due insieme ho dei funghi porcini della pasta ripiana e funghi porcini zucca e funghi porcini e un dolce un cioccolato e pera sono due sapori totalmente diversi non sarebbe mai il cioccolato non sarebbe mai bene il cioccolato con il profumo di funghi porcini vero? beh non lo vorrei nemmeno io ma il sistema magic cooker particolarmente la cupola san pietro ci permette di innalzare la camera d'aria in quale io cucino cioè il mio forno portatile utilizzo in questo caso il kit forno mi dà la possibilità di cuocere a basse temperature perché è sempre il principio magic cooker i fori venturi ok mi permettono di mantenere una temperatura costante interna di 97 gradi questo significa che tutti i grassi che sono dentro in questo caso abbiamo nella ricotta poco olio diciamo con quale è stata cotta la zucca e i funghi porcini poi abbiamo l'olio di semi che abbiamo messo nel dolce questi grassi vegetali o animali che siano non diventano cancerogeni perché non avviene la trasformazione quando il grasso si trasforma proprio in un veleno tante persone che magari soffrono già di gastrite di iperacidità di questi disagi diciamo a livello dello stomaco mangiando qualcosa che viene cotto a alte temperature nel forno tradizionale intendo sicuramente avranno poi fastidi problemi io posso eliminare tutto questo grazie a questo sistema di cottura quando i miei grassi rimangono grassi salutari ecco che non che non ci avvelenano almeno non posso dire proprio salutari ma almeno non ci avvelenano ok in questa maniera cioè essendo ancora a 97 gradi mi permette anche la farina per esempio che io ho utilizzato nel dolce si gelatinizza cioè le particelle di farina diciamo si trasformano in una gelatina gelatina che va poi a proteggere le nostre mucose interne dunque parto già con questa protezione e salvaguardo diciamo la mucosa interna specialmente dello stomaco che è quella più delicata e sensibile diciamo le cose che si mangiano insomma durante quelle che si mangia dipende da quelle che si mangia poi grazie alla cupola la mia camera si alza aumenta tanto di volume mi permette di cucinare anche due ricette totalmente diverse tra di loro insieme essendo vi dicevo tanto volume ho bisogno non di 5 minuti ma di 15 minuti per riscaldare la camera d'aria incluso le tellie con il loro impasto che c'è dentro che ovviamente è temperatura ambiente dunque per riscaldarlo portarlo a 97 gradi ci vuole molto più tempo che una teglia semplice dentro ovviamente nemmeno i sapori non si mescolano tra di loro immagino che tanti di voi avete l'ottimizzatore di cottura magic cooker sapete benissimo che si può cucinare la pasta con delle verdure diverse ma ogni verdura ha il suo sapore non viene ricoperto di solito il peperone è quello più importante diciamo come sapore che copre il sapore delle altre verdure si può cucinare il pesce con le patate qualcosa di dolce se volete perché i sapori gli odori non si mescolano tra di loro ecco questo io lo vedo una vera magia poi con la cupola di san pietro visto che posso cucinare addirittura due ricette nello stesso tempo è vero che il tempo è leggermente più lungo di quando fosse una ricetta sola ma diciamo è una volta e mezzo all'incirca di una ricetta sola non vado a cucinare due pietanze diverse in tempi diversi ecco poi la scelta degli ingredienti allora vi dicevo la zucca è una verdura di stagione ci porta tanti benefici il colore arancione in primis è il beta carotene che contiene e preserva il sole che abbiamo preso durante l'estate la carnagione il colore della pelle la melanina nello stesso tempo ci porta tante vitamine sale minerale ma contiene anche della fibra vado a contrastare diciamo la dolcezza della zucca con un sapore bello forte del fungo porcino il tutto quanto amalgamato nella ricotta per creare l'impasto con il quale io ho riempito la pasta dunque è una pasta ripiena secondo me è molto bello da servire sul tavolo noi l'abbiamo già provata i bambini erano molto felici di vedere questi tubetti insomma come se fossero delle torrette una accanto all'altro che cosa ho fatto con il mio impasto salato diciamo il primo piatto in pratica una pasta al forno ecco una pasta ripiena al forno l'ho aromatizzata con erbe aromatiche che non fanno altro che portarmi benessere dal punto di vista digestivo sia al rosmarino sia all'alloro sia il pepe anche il cardamomo il cardamomo è leggermente mentolato sono delle erbe ete aromatiche che aiutano il mio sistema digestivo sia nella digestione sia a lenire eventuali disagi tipo flatulenza coliche che ne so altri dolori che possono avvenire a livello intestinale dunque non fanno altro che aiutarmi nel processo digestivo e a rilassare direi tutti gli organi che fanno parte del tubo digestivo diciamo che partecipano alla digestione di rilassarli non in maniera che non producano più non fanno più il loro dovere ma di farlo con calma tante volte lo stress no tante volte sempre lo stress genera infiammazioni più stress c'è più infiammazioni abbiamo al nostro interno sia a livello dell'intestino sia poi si produce avanti va avanti a livello delle articolazioni tessuti muscoli e cose varie se noi riusciamo a agire con le nostre erbete io utilizzo personalmente per la mia famiglia ho scelto questi oli essenziali che sono particolari perché sono gli unici che sono certificati testati e garantiti si assumano internamente sono proprio puri poi se qualcuno vorrà sapere sono felice di svelare le cose che ho scoperto per la mia famiglia ripeto riusciamo ad agire specialmente a livello intestinale perché se lo stress genera infiammazione infiammazione che diventa importante quella infiammazione che poi ci dà fastidio perché iniziamo a sentirla è ulteriormente generatrice di altro stress perché standoci male ovviamente ti stressi insomma non sei mica tranquillo se ti fa male di qua o di là è scelto proprio diciamo un abbinamento di erbete aromatiche che vanno a aiutare nel processo digestivo aumentando anche il metabolismo la circolazione ottimizzandolo per il pepe nero ne abbiamo parlato tante volte del pepe nero ecco questo è per quello che riguarda diciamo il nostro primo piatto il dolce non secondo piatto il dolce ho scelto il cacao amaro perché genera dell'energia no? la pera perché quando andiamo a mangiare un tutto ciò insieme questa pera ha pezzettini non troppo piccoli ma nemmeno troppo grandi Williams ok così che deve essere bella gialla non verde perché altrimenti troppo dura non è piacevole al palato cioè anche il sapore è totalmente diverso perché non è matura non è arrivata alla sua maturazione ci dà quel tocco di morbidezza ma nello stesso tempo di freschezza quando viene mangiata ho aggiunto la granella di mandorle per dare anche il lato croccante perché il nostro palato gioisce a avere tutti questi misculi diciamo tra morbido croccante dolce un po' salato insomma sembra che rammento la canzone che io ho arricchito con della cannella che sappiamo che la cannella stimola il metabolismo accelera il metabolismo riesce ad aiutare il nostro pancreas per mantenere il livello dei zuccheri nel sangue a livello ottimale perché va a stimolare il pancreas per produrre l'insulina naturale ok e la miscela metabolica è una miscela di vari oli essenziali in questo caso che mi aiuta proprio a controllare anche l'appetito a calmare lo stomaco ma nello stesso tempo aumenta proprio il metabolismo cioè si chiama miscela metabolica perché mi va ad aumentare il metabolismo io mi posso permettere di mangiare anche un qualcosa di dolce senza sentirmi in colpa almeno oggi senza sentirmi in colpa perché so che con tutti gli ingredienti che io ho aggiunto e insaporitori riesco allenire il mio sistema digestivo a assicurare una digestione ottimale e velocizzando il metabolismo non vado nemmeno a depositare ok i depositi sono i depositi di grasso vi voglio salutare a tutti quanti allora la prima che ho scritto oggi è Gravano Anna Elisa grazie per gli auguri Felicia Grande buon pomeriggio a te carissima Maria Cammarata saluta a me e vi dice buon pomeriggio a tutti voi Loredana Iacuzzo grazie per gli auguri Cristin Cristin che ci siamo viste la settimana scorsa un abbraccio e grazie per gli auguri Margherita Campione buon pomeriggio e grazie per gli auguri Antonina Scimecca bentornata e buon pomeriggio Elisa e a tutti grazie Antonina Natasha Vittori ciao carissima un abbraccio anche a te e grazie per gli auguri poi Antonina Scimecca bentornata e buon pomeriggio a tutti Mariela Moscato ciao carissima benvenuta nella mia cucina Cagnolo Silvana buon pomeriggio a te grazie Cagnolo Silvana per gli auguri Gennaro Lieto Annina Giuliano grazie per gli auguri e buon pomeriggio anche a te Anniese Rizzo ciao carissima è bellissima ti ringrazio sei molto gentile grazie per gli auguri Lucrezia Valente un abbraccio anche a te ciao carissima Francesco Nocera ciao bentornato nella mia cucina Carmela Bilotta grazie per gli auguri Antonina Scimecca grazie anche a te per gli auguri ricambio molto volentieri l'abbraccio io sono proprio golosa di abbracci Anna Maria Russo tanti cari saluti ti ringrazio Anna Maria Russo sì due volte grazie per gli auguri poi Assunta Conte ciao anche a te bentornata nella mia cucina Felicia Grande grazie per gli auguri Giusy Scalic se ne ho detto bene grazie per gli auguri Anna Del Regno ci saluta tantissimi auguri un abbraccio lo ricambio molto volentieri Giusy Ingoglia ciao carissima benvenuta nella mia cucina Antonietta Monteforio ottima idea sono contenta che apprezzi questa idea che vi ho dato e grazie per gli auguri Isabella Stefano grazie per gli auguri Mario Nack grazie anche a te Giusy Ingoglia grazie per gli auguri Cricri non so come ti chiami esattamente però così viene scritto grazie anche a te per gli auguri Rosa Cerminara grazie Cinzia Duse grazie Franco Gambuza tanti auguri di buon compleanno grazie Antonella Donà grazie carissima Gabriella Misery ciao e grazie per gli auguri Maria Camarata grazie per gli auguri Antonella Donà carissima un abbraccio Raimonda D'Angelo ciao vorrei sapere il ripieno della calamarata e auguri ok allora sono dei funghi porcini la ricotta e zucca zucca e funghi porcini sono passati in padella leggermente cotti non più di tanto tanto non hanno bisogno perché la zucca viene frullata dunque è piccola piccola non ho bisogno i funghi porcini tagliati a coltello non troppo fine è importante che rimangono un po' a pezzettini ma in tal modo che passano dalla bocchetta del sac a poche adesso dopo 15 minuti una volta che io ho riscaldato la mia camera d'aria insieme al contenuto che è nel kit forno ok le due ricette continuo a fiamma media non ho bisogno di sprecare il fuoco per 20 minuti all'incirca il tempo di cottura di ogni ricetta perché se andate a pensare inizialmente senza la cupola san pietre con un'unica ricetta ovviamente si andava 5 minuti per esempio a fiamma alta e poi 15-20 minuti a fiamma media siccome abbiamo tanto volume tanta materia prime da riscaldare da portare a temperatura invece di 5 minuti abbiamo 15 e poi 20 minuti a fiamma media grazie Francesca Smimma per gli auguri Maria Petrilli ciao carissima bentornata nella mia cucina Cinzia Tassi buon pomeriggio carissima Elisa Sesto un saluto a tutti dalla Valle d'Aosta è un abbraccio forte a te che sei golosa di abbracci li ricambio molto volentieri e lo so che anche a te ti piacciono perché li ho già provati Cristina Bitri ciao carissima Cinzia Coppone grazie Lucia Mallia grazie per gli auguri Adelina Calicchio grazie anche a te Micoli Dori grazie per i complimenti anche Ada ciao Elisa tanti auguri buon compleanno ti ringrazio Anna Lissanti ciao carissima Francesca Smima ha scritto di nuovo Mina Panessa grazie per gli auguri Maria Angela D'amore Anna Alessandria benvenuta palma ritacco mi ricambi l'abbraccio Giuse Ingolia sarei interessata a sapere di questi oli che usi io soffro di infiammazione dell'intestino grazie ne parliamo privatamente mi puoi scrivere quando vuoi sapete che tanti di voi mi avete scritto sempre risposto scrivimi molto volentieri ti posso svelare tutti i miei sperimenti quello che ho scelto per me Maria Carmela Volpe grazie per gli auguri Gabriella Zanett grazie carissima e ti mando un abbraccio anche a te Lisa De Francesco vi saluta tutti quanti Mina Panessa le ricette dove si trovano grazie ecco una domanda finalmente allora sul canale youtube cioè sul youtube mettete come ricerca la cucina di Elisa Festov lì trovate assolutamente tutte le dirette potete iscrivervi gratuitamente vi arriva un'unica mail alla settimana che vi avvisa che è stata caricata un'altra ricetta potete scegliere andare a cercare vari argomenti sentire la spiegazione sono lunghe è vero ma lì potete sentire anche la spiegazione di quello che sto preparando è il perché con vari tempi potenza della fiamma ci spiegate nei minimi dettagli ovviamente i tempi sono quelli reali ma insomma e altrimenti se non avete pazienza o non avete bisogno di sentire tutte queste spiegazioni perché sicuramente sarete magari anche pratiche del sistema magic cooker sempre su youtube cercate facile e veloce Eliza Sesto e lì avete le ricette sprint che durano da 1 a 3 minuti dove la potenza della fiamma e i tempi di cottura sono scritti ok in questa maniera la ricetta è accorciata e non state a tanto tempo insomma a leggere comunque sotto le ricette quelle in diretta cioè sotto il video nei commenti avete gli ingredienti e procedimento senza dover guardare di nuovo tutta la diretta avete sotto scritti esattamente gli ingredienti e il procedimento sia con il sistema magic cooker classic sia con il sistema smart e dynamic grazie Elisabetta Smith per gli auguri un saluto anche a te un abbraccio Caterina Renzetti buon pomeriggio a tutti e auguri grazie carissima t'abbraccio anche a te tantissimo grazie per gli auguri a Maria Elena Mangione Lucia Pecoraro grazie Lisa Di Francesco grazie anche a te Concetta Concia Gisella Porterra grazie per gli vostri auguri Angela Ciappellano poi Giulia Mandolchi buon pomeriggio a tutti voi ok ora ho letto tutti gli ingredienti qui ci mancano ancora 15 minuti insomma io vi ho fatto vedere non vorrei tenervi più di tanto insomma con i tempi reali della ricetta quello che vi posso dire ecco con la calotta il kit forno sul fornello grande da 10 cm vado a fiamma alta 15 minuti perché ho bisogno di riscaldare la camera d'aria incluso tutta la materia prima che ho dentro le due ricette le due tellie continuo a fiamma media per 20 minuti spengo il fuoco e lascio da solo in autocottura 15 minuti anche se non ho lo smart dinami ma la cupola mi permette di trattenere tanto calore anche sopra ok perché fa corpo comune con la parte sotto della pentola l'alluminio del kit forno diciamo è bello spesso dunque non è come la vulcanica o la black diamond diciamo di assorbimento di calore ma comunque mi permette di avere un pochino di autocottura qui c'è un bel commento da Eleonora Amato prima di tutto auguri grazie praticamente perfetti ha pensato alle esigenze di tutti infatti l'azienda Magic Cooker il nostro presidente Marco Ferrari ha pensato proprio alle esigenze di tutti diciamo le tempistiche ve l'ho detto sicuramente non so oggi se riesco perché sono un po' impegnata se no domani sotto il video anche sulla pagina Facebook del Magic Cooker sotto la diretta di oggi metterò gli ingredienti procedimento e la foto finale del piatto così vi potete cioè potete avere l'idea diciamo di come avvengano le cose perché voglio festeggiare con voi dunque ho la mia bottiglia di spumate ovviamente non avevo messo anche da qualche parte il bicchiere portata di mano ho preso il mio calice perché ho detto che voglio festeggiare con voi voi festeggiate con me io festeggio con voi no dai ce la facciamo wow wow allora ci mettiamo un po' nel calice ringrazio a tutti voi per tutto il tempo che mi dedicate per la vostra attenzione per il fatto che mi sopportate durante le dirette lo so che sono lunghe io vi saluto tutti quanti ma durante la cottura dunque non vado a perdere tempo auguro non solo a me ma a tutti noi una vita piena di gioia di sole che ce lo dobbiamo portare dentro d'amore partendo da noi stessi ad amarci noi stessi per poter amare quelli che sono intorno una vita serena senza stress con tanta generosità umiltà e il desiderio di migliorare sempre più ognuno di noi domani essere migliori di oggi cin cin e grazie agli auguri a tutti voi ciao anzi bevo prima ciao a tutti al prossimo giovedì sempre alle ore 15 dicci